La professoressa Rosita Gabbianelli ha partecipato nei giorni scorsi nella rappresentanza dell'Università degli Studi di Camerino alla sedicesima edizione del Meeting di Nugo, associazione di università ed enti di ricerca di tutto il mondo che lavorano nell'ambito della nutrigenomica e ha tenuto una relazione di presentazione dell'Ateneo da poco entrato nell'associazione. L'Università di Camerino è infatti l'unico Ateneo italiano membro di questo prestigioso network di eccellenza sulla nutrigenomica. Abbiamo incontrato la professoressa Gabbianelli. Unicam è entrata a far parte del network Nugo che è il network di eccellenza europeo sulla nutrigenomica. Questa opportunità offre ai membri la possibilità di dare borse di studio, di partecipare a webinar, di avere supporto per mobilità di piccola durata per i giovani ricercatori in altre università prestigiose europee. Una caratteristica è che Unicam è la prima università italiana a far parte di questo network e quindi è una importante e prestigiosa acquisizione che permette ai ricercatori dell'Università di Camerino di poter collaborare con colleghi che lavorano in prestigiose università straniere. Il Nugo tiene particolarmente alla formazione dei giovani e è in estrema sintonia con Unicam. Questa sintonia si è concretizzata anche in supporti che sono stati dati in passato ai giovani provenienti da altre università per poter partecipare alla Europea Sanmascula Nutrigenomica. Sono state date 9 borse di studio lo scorso anno e sono state destinate altre 8 borse di studio per la prossima edizione della Sanmascula che si terrà il prossimo giugno dal 22 al 26 giugno 2020.